buongiorno principesse e buongiorno principesi un altro video della format albo sempre in modalità scappato di casa con malettina del sushi perché ero impegnato a studiare logica sto fondendo e quindi ci ritagliamo un paio di minuti per dare risposta a le solite 2800 email che mi sono arrivate anche questa settimana chiedendomi una cosa fondamentale la proroga la proroga avanti ieri tre giorni fa ho discusso con una collega su faccialibro per 5 6 post la collega sostiene strenuamente che vi è stata una proroga anzi che vi sarà una proroga quindi addirittura in fu lei ha la certezza adesso che ci sarà una proroga futura allora c'è stata sta benedetta proroga per l'iscrizione all'ordine dei pedagogisti degli educatori professionali sociopedagogici e relativi albi dividiamo in due la risposta 1 gentil collega o gentile collega sei tu residente in quel dell'arridente puglia se la risposta è sì vai al punto a il punto a è il qui presente gazzetta ufficiale no ordine alle professioni no eccetera eccetera ok non lo beckerò mai link comunque i colleghi pugliesi hanno avuto una proroga per i termini di iscrizione all'ordine e relativi albi fissata per l'ottobre prossimo ventura quindi sei tu gentil collega pugliese hai qualche altro mese di tempo per iscriverti per tutti gli altri colleghi e colleghe residenti nello stivale italico la proroga non c'è non c'è mai stata e non ci sarà perché non è che le cose si prorogano così a come dire mi veniva un termine poco gentile però così diciamo un po casualmente ora la proroga non c'è e non ci sarà la data di scadenza ultima era il 6 di agosto quindi chi si è iscritto si è iscritto anzi chi ha presentato domande di iscrizione l'ha presentata chi non l'ha presentata dovrà attendere la costituzione dell'ordine la prima convocazione e poi istruzioni per eventuali iscrizioni in futuro ma questo argomento del prossimo video ora perché si è generato tutto sto casino mi giro un attimo indietro con i potenti mezzi e vediamo un attimo allora io qua ho fisco e tasse che non è che siano gli ultimi deficienti sulla terra che il 9 di agosto titolavano pedagogisti ed educatori iscrizione agli albi prorogati al 31 12 ed è ancora online quest'articolo cosa dice l'articolo dice che per l'ufficialità occorre attendere la pubblicazione del decreto nei gu nella gazetta ufficiale di quale decreto stiamo parlando stiamo parlando del famoso decreto omnibus decreto omnibus che tradotto in italiano è decreto legge 9 agosto del 2024 numero 113 misure urgenti di carattere fiscale proroghe di termini normativi interventi di carattere economico ecco allora è successo un posto casotto che alcune testate normative di fisco e poi ripiombate alla grande da professione scuola tutto scuola stiamo a scuola che bella la scuola ho la scuola avvocativo eccetera eccetera ordine delle professioni pedagogiche albo di pedagogisti ed educatori saltata proroga al termine delle iscrizioni punto interrogativo questo è datato dell'otto di 8 agosto 2024 allora come funziona una proroga a un atto normativo qualsiasi tipo di proroga qualsiasi ufficialità di una legge in italia diventa tale una volta pubblicata in gazetta ufficiale se una legge un decreto una normativa un quello che vi viene in mente a voi non viene pubblicato a livello ufficiale vuol dire che non è passato non tutte le proposte di legge di proroghe di norme passano non tutte e questa non è passata non è stata neanche discussa si parla tanto si parlava tanto nelle settimane scorse in questo decreto omnibus all'articolo 5 addirittura orizzonte scuola diceva all'articolo 5 del decreto omnibus c'è la proroga e scusate anche a chi scrive gli articoli uno cosa fa va in gazzetta ufficiale si apre il decreto omnibus perché è pubblicato questo è stato pubblicato va all'articolo 5 e che cosa becca modifiche alla disciplina in materia di iva ora cazzarola volante multipla glassata ma gli leggetti i decreti prima di sparare cagate fotoniche non c'è nessun riferimento a una proroga quindi risposta per non andare troppo lunghi c'è stata una proroga per l'iscrizione ai due albi a relativo ordine professionale per pedagogisti educatori professionali socio pedagogici se sei pugliese hai tempo fino a ottobre se non sei pugliese la data è già scaduta era il 6 di agosto detto questo ci vediamo al prossimo video dove parleremo un attimino del e cavolo e io non mi sono iscritto e adesso che succede ciao